carissime amiche e amici di pregaudio eccoci con la nostra newsletter mensile che parte il 28 di ottobre siamo entrati nel mese di novembre il mese della comunione dei santi novembre chiude l'anno liturgico ci fa vivere la comunione con dio il paradiso la risurrezione della carne e la vita eterna che verrà come si recita nel credo eppure nell'immaginario popolare novembre è il mese dei morti quasi un mese sfortunato e poverelli quelli che come me ad esempio sono nati proprio di novembre sapete ci lamentiamo tanto di halloween ma dobbiamo fare anche un mea colpa noi cristiani infatti non parlando mai dei santi i viventi e non parlando mai di gioia del paradiso ma solo di morti di ottavari dei morti ma soprattutto non parlando mai di risurrezione dei corpi del nostro corpo ma solo di una vaga anima dispersa nell'etereo ecco alla fine qualcuno purtroppo una specie di risuscitazione nella tirata fuori la festa di halloween appunto con gli zombie è proprio all'inizio di questo mese il mese che noi chiamiamo dei morti ora chi è causa dei suoi mal pianga se stesso direbbe dante qui su prega audio invece noi parleremo di novembre come il mese dei santi ci saranno catechesi pensieri riflessioni sulla santità e subito allora vediamo quanto ne sapete dei santi e della santità un caotto di una ventina di domande una trentina di domande con una sorpresa finale nel testo e allegato e all'audio li trovate il link appunto per andare su caotto sarete portati infatti sul portale di caotto questo bellissimo strumento didattico facilissimo da usare inserite il vostro nick il vostro nickname e giocate fino all'ultimo quiz perché alla fine scoprirete il santo che vi ha scelto fotografando il qr code che vi è proposto ma torniamo alla nostra app sentiamo ogni tanto qualche lamentela per le questioni tecnologiche un po lenta si inceppa non si chiude eccetera adesso ultimamente anche sullo store di android comincia ad avere dei seri problemi ecco purtroppo la nostra app ai suoi anni che non sono molti sono otto ma la tecnologia con la quale è stata pensata è ormai vecchia per internet non più aggiornabile questo è il risponso che ci danno i nostri sviluppatori così stiamo pensando la realizzazione di una nuova app ma prima vorremmo capire da voi cosa ne pensate e se riuscite ad aiutarci in questa impresa titanica pertanto vi chiediamo di aiutarci nel discernimento rispondendo al sondaggio che vi presentiamo anche qui potete cliccare sotto il 15 ottobre poi scorso il punto giovane di rizzone ha festeggiato 25 anni di attività sono stati tre giorni molto belli il venerdì abbiamo incontrato i ragazzi adolescenti con loro abbiamo parlato di futuro e dei loro sogni in quella sera abbiamo lanciato anche un social contest al quale potete partecipare tutti ecco specialmente i ragazzi anzi vi incoraggiamo a farlo ecco provate a cliccare anche qui sul link per conoscere le info ed iscrivervi e ora vi attendiamo il 28 novembre per festeggiare con voi otto anni di pregaudio un abbraccio a tutti